Noi ci siamo dati questo input di iniziare una fase nuova perché crediamo che il bonus, come ho sempre detto, dei primi mesi all'amministrazione e di questo ce ne dovrebbe dare atto al sindaco Tidei e è finito. Io credo di essere stato insieme a Simona Galizia e a Patrizio Caraffa un esponente dell'opposizione che ha avuto un rispetto e anche un comportamento consono. Adesso però siamo spinti dai cittadini che ci fermano in città e io non posso più essere silente. Caro sindaco, le questioni che riguardano, cominciamo dai servizi, non è che possono essere contestati dall'amministrazione che si organizza i vertici di comando. Non può il battitore fare anche il ricettore. Il nostro ruolo, quello dell'opposizione, lo vogliamo fare noi. Indubbiamente in città non si respira aria di novità. Insomma questo slogan è tanto sbandierato. C'è chissà come si fa, non è che ci sta dimostrando che indubbiamente è tanto adeguato a questa amministrazione in questa fase. Noi siamo pronti a non fare l'opposizione solo di denigrazione, tanto più sul personale che non abbiamo nulla da dire. Parliamo di politica. Noi vogliamo essere un'opposizione che è costruttiva. Abbiamo delle proposte. Se siamo chiamati a dei tavoli, qui c'è un gruppo emergente di un centrodestra. Lo ha detto anche Giovanni Moscherini sulle questioni che riguardavano l'Enel e altro. Diciamo in una sorta di proporzione, inversamente proporzionale, ciò che dicevate di saper fare non lo state dimostrando quando governate. Allora io credo che sia arrivato il momento che il PDL, soprattutto con queste figure, perché indubbiamente sono fiero ed orgoglioso di stare insieme a un gruppo dove c'è una ragazza in gambissima, un ragazzo bravissimo, di ricominciare a creare, ad aggregare e fare e preparare un progetto alternativo per il prossimo futuro. Diciamo che comunque sia, caro sindaco, la questione ti sta sfuggendo di mano, quindi dacci dimostrazione, altrimenti ci ritroveremo su questi schermi perché non possiamo assistere proprio da cittadini a uno stato di condizioni di servizi mancanti e latenti come quelli che vediamo in questo periodo. Grazie. Grazie.